Le prime notizie di sabato 13 aprile. Qualche settimana fa si travestì da fantasma lanciando sassi contro la finestra dell'ex moglie ma il divieto di avvicinamento e un ammonimento del questore non sono stati sufficienti a un 48enne di Gallipoli per farlo desistere dal continuare a perseguitare la donna violando per otto volte in un solo giorno i divieti. L'uomo è stato finalmente arrestato e posto ai domiciliari. Era stato costretto a indossare un braccialetto elettronico anti-stalking mentre la vittima aveva un ricevitore che segnalava il suo avvicinamento ma non era servito. Si spera ora che gli arresti in casa siano sufficienti e che la protezione alla donna sia stata comunque rinforzata. Un uomo di 44 anni di San Severo è stato arrestato con l'accusa di concorso nell'omicidio di Maurizio Cologno, il 52enne ucciso all'esterno di un lido a Marina di Lesina nel 2022. L'arrestato avrebbe fatto da autista al killer che non è stato ancora identificato. Nella sua casa di campagna aveva un revolver calibro 38 e decine di munizioni per fucili mitragliatori. Un 39enne di Massafra incensurato, residente a San Pietro Vernotico, è stato arrestato dalla squadra mobile di Lecce. Un raid vandalico è stato messo a segno l'altra notte nel cimitero di Taurisano in provincia di Lecce. I gnoti, dopo aver forzato il cancello d'ingresso, sono entrati e hanno danneggiato cappelle e lapidi facendo cadere i portafiori e i cassonetti della spazzatura. Prima come BNB e poi come agriturismo, ma sempre evadendo il fisco. La Guardia di Finanza di Ostuni ha scoperto ricavi non dichiarati per 200.000 euro in una struttura che opera nel settore turistico dal 2018, sanzionati i titolari. Sono 13 gli indagati per occupazione abusiva di suolo pubblico dopo il sequestro disposto dal jeep del tribunale di Foggia ed eseguito dalla polizia di 22 garage abusivi a San Severo, alcuni dei quali erano usati per spacciare la droga. Tre reti da posta illegali per complessivi 5 chilometri sono state recuperate lungo la costa dalla capitaneria di Brindisi che all'interno di una pescheria ha anche sequestrato mezzo quintale di prodotto ittico privo di tracciabilità. E' stata somministrata all'ospedale Giovanni XXIII di Bari la terapia genica al bambino palestinese di dieci mesi affetto da SMA di tipo 1 giunto in Puglia nei giorni scorsi. Se il piccolo fosse rimasto a Ramallah, privo della terapia a causa della guerra scoppiata nella striscia di Gaza, sarebbe morto. La copia della statua di Santo Ronzo verrà riposizionata questa mattina sulla colonna dell'omonima piazza nel cuore di Lecce, ma sui social impazza la polemica sulla somiglianza tra la copia, costata pare molto più del previsto, e l'originale. In particolare sono state riscontrate differenze a zigomi, palpebre e naso tra le due statue del Santo. Il lifting evidentemente non è piaciuto a tutti. Meteo sulla Puglia, cielo sereno per tutta la giornata, con temperature sino a 28 gradi sul tavoliere e sull'arco ionico interno, poco più fresco sul versante adriatico. Venti di maestrale moderato lungo le coste adriatiche, con maggiori raffiche sul Salento orientale. Mari poco mosso l'adriatico, quasi calmo lo ionio. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a lunedì mattina.